Continuano le attività della biblioteca e museo del calcio dedicato ad Andrea Fortunato, ubicato a Santa Maria di Castellabate e presieduto da Davide Pulito. Lo scorso pomeriggio Sergio Mari, ex calciatore della Cavese, Agragas e Centese, ha visitato l'importante luogo di cultura sportiva cilentana. Giornata straordinaria oggi. Sono capitato su invito di Davide Pulito, il presidente della biblioteca intitolata da Andrea Fortunato, nonché del museo. Una cosa straordinaria. Ci saranno mille foto che mi sono messo a guardare, 8.000 volumi, sì, proprio qui a Santa Maria di Castellabate. Gli ho portato, perché vengo da un viaggio siciliano, la maglia dell'Agragas numero 10 appartenuta al mio compagno di squadra Peppe Catalano, Udinese, Genova, Messina. Una maglia straordinaria, ma vado a vedere tutte le maglie che sono riuscito a prendere tra le mani. Guardate qua, la maglia della Salernitana di Ciro Ferrara. Ma che cosa è? C'è tutta la storia del calcio in questo posto straordinario. La maglia di Zanetti dell'Inter, capitano. Guardate qua, tutte belle firmate. Ragazzi, è il momento giusto per visitare una struttura del genere, messe su da Davide Polito. Guardate qua, grazie a lui anni fa sono riuscito a conoscerlo. Sono sicuro che se solo la indossassi per 10 secondi diventerei un po' più veloce. Sono davvero emozionato a toccare una cosa del genere appartenuta a Pietro Mennea. Sì, anche questo fa parte della biblioteca del museo intitolata da Andrea Fortunato, qui a Santa Maria di Castellabate. Ma le sorprese non finiscono qua. Guardate, non vi dico nulla, ma vi ricordate questo oggetto tra le labbra di un signore che nel 1982 ci ha portato alla Coppa del Mondo in Italia. Colui sì, che giocava insieme a Sandro Pertini. Accuso e Zoff su un aereo giocavano a carte. Sì, questa è la pipa di Berzotto, signori. Un'emozione averla qua. Logicamente, come non guardare una persona, un atleta, un giocatore straordinario che sono riuscito a marcare. Abbiamo qui la maglia di Bartolomei. Agostino di Bartolomei, la maglia originale di quando lui giocava nella Roma. Ma, logicamente, non posso non menzionare colui che ha dato il nome e il titolo a questo museo, a questa biblioteca. Lo sfortunato Salernitano, grandissimo calciatore, che è Andrea Fortunato. Questa è la sua maglia della Juve. Venire in questo luogo, qui a Santa Maria di Castellabate, messo su da Davide Pulito, vuol dire andare a vedere le migliaia di fotografie che ci sono. C'è tutta la storia di Santa Maria di Castellabate del calcio, quindi il calcio minore fino ad andare a finire all'Inter degli anni 70.